Coronavirus, un altro bollettino pieno di speranza per la provincia di Prato. Nelle ultime 24 ore, stando ai dati diffusi dalla regione oggi, sono stati registrati due nuovi casi che fanno salire il totale a 535, mentre non ci sono stati altri decessi e dunque il numero delle vittime resta fermo a 43. Un quadro confortante che rispecchia l'andamento dell'emergenza sanitaria in tutta la regione, dove nuovi casi sono 26, stesso dato di ieri, che portano a 9.683 il numero dei positivi in Toscana, 16 invece i morti, 6 in più dell'incremento di ieri, con il totale che arriva a 915. Le ultime vittime sono 10 donne e 6 uomini, età media 85 anni. Impennata nelle guarigioni, ne sono state accertate altre 382, il 10% in più rispetto a ieri, Delle 4.052 persone che rientrano in questo capitolo, 1.345 sono guarite clinicamente, cioè non hanno i sintomi del virus in seguito alle cure, e 2.707 sono risultate negativi al doppio tampone di controllo. Ancora un segno meno per i ricoveri, 528 i letti occupati da pazienti colpiti dall'infezione, e di questi 91 sono in terapia intensiva, numeri bassi che non si registravano da metà marzo. 4.509 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, totale dall'inizio dell'epidemia 166.062.